Tentare la via giudiziaria rivolgendosi al TAR perché l'istruzione è un diritto garantito dalla Costituzione. È questo l'invito che il sindacato Gilda rivolge ai cittadini di Ottone, dopo il depotenziamento della scuola media Toscanini, che da settembre di fatto diventerà una telesucursale di Bobbio. Gli alunni potranno contare su un pacchetto di 12 ore scolastiche di italiano e 6 di matematica in presenza, ma tutto il resto sarà in didattica a distanza. È Salvatore Pizzo, coordinatore locale della Gilda degli Insegnanti, a ricordare il perché di questo provvedimento. I tagli orizzontali decisi nel lontano 2008 ai danni della scuola italiana, dice, fanno oggi sentire il loro pesante effetto alla comunità di Ottone, dove lo scarso numero di alunni non consente all'ufficio scolastico di poter assegnare gli insegnanti necessari al funzionamento dell'istituto. La scuola reale, aggiunge Pizzo, è quella in presenza, il resto è un surrogato. I contratti vigenti nel comparto, tra l'altro, limitano tale pratica la durata dello stato di emergenza Covid, solo per far fronte ai casi di quarantena. Non si può pensare, prosegue il sindacalista, che una comunità sia privata di un'istituzione fondamentale, cercando di tenerla in vita fintamente solo con stratagemmi.